Eeeh olè! Ciao 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 ciao! Allora oggi si stacca pesantemente e guardate che bella giornata che c'è guardate che bella... ho la barba! Ho la cintura dei campioni Me la prendo pure con calma a bere il caffè adesso perché tanto devo aspettare crosta che finisce di fare la panca perché abbiamo solamente un bilanciere e devo fare stacco, devo ritirare quello stacco andrei con la panca e quindi... aspetto! Mentre vediamo cosa ho da fare e iniziamo a pensare mentalmente all'allenamento Allora stacco! Cioè sento che sto aumentando il massimale di continuo ragazzi, è improgrammabile Military Press Cioè sento che sto aumentando il massimale di continuo ragazzi, è improgrammabile Pull Up 2x15 con 12 kg, bello questo Per chi ha visto il vlog scorso dell'allenamento al parco è successo ieri quindi... Cioè sento che sto aumentando il massimale di continuo ragazzi, è improgrammabile V push up con piedi su rialzo 3x buffer 2 Più 10 kg quindi qua le ripetizioni sono la variabile Micchia Cardano ragazzi è un euro, Cardano è salita a un euro Adesso è un euro e 0,8 Ha avuto il picco qualche giorno fa Ieri, no l'altro ieri, un euro e 20 è arrivato Cardano che era partito qualche... cos'è? Qualche settimana fa era a 70-60 centesimi e io sono entrato a 70 centesimi su Cardano e Posta a 1 euro e 20 Ma mentre che aspetto il signorino che finisca di fare la palla... È l'ultima serie, giusto? Guardate qua Dopo ti devasto Andrea, dopo ti devasto sull'ostacolo, lo sai? Lo sai Andrea? Allora, prima serie 160, ok? Vediamo se è facile, aumento Allora, provi 170, ok? Proviamo a mettere 170, dovrebbe andare bene Vediamo se li reggo, se li sento Allora, erano un po' brutti, a me non piacevano onestamente, quindi torno a 160, ok? Però la conto come serie allenante, non conto invece la prima del 160, facciamo... Ok, chiuse adesso le seconde serie sono abbastanza rotte Allora, adesso ho 2x5 con 140 kg, ok? Di back-off Bello easy, bello leggero Ok ragazzi, siamo passati al military press, adesso Già ho fatto le prime due serie di riscaldamento Sarà? Dai, cosa sta? Ti fa male la pancia? Stai male? Andrimi, fermi lì, so... Noi, dai, vai E... Mav 6, qui mi andrò avanti di serie in serie da 6, farò un ramping Ok, aumenterò di 5 kg in 5 kg le prime serie E andando ad avvicinarmi poi a quella che è una fatica ulteriore Mi avvicinerò con 2,5-2,5 kg, quindi 5 kg Ecco, in realtà... Mi avvicinerò quindi con... Adesso mi sto avvicinando di 10 kg in 10 kg Quindi vado alla prima serie a rilanciare il vuoto Poi ho messo 10 kg per partner Ok, dico... 15 kg per... Cazzo sto dicendo? Ho fatto la prima serie da serie di decisioni a rilanciare il vuoto Poi ho messo 5 kg per partner Adesso ho messo 10 kg per partner Ok, faccio la serie E poi caricherò, penso, da 5 kg in 5 kg Complesso, quindi vado più piano poi lo ramping Ok, faccio la serie 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 55 kg ragazzi, vediamo, testiamo, sempre 6 inizioni, in rampa, secondo me siamo quasi arrivati al capolino, io spero di arrivare a 60, però se sento che l'ultima redda mi blocco, ok? cercherò di non farla lenta, vediamo la 60, il cibo io sotto a 60 easy, 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 si procede ragazzi, si procede a 60 e che la droga piace a tutti quanti, non si facendo cutto che chiongi, non è nata l'augurio a tutti quanti a mezza di mezza di tumame, c'entendo fir la ferramenta, un tempo orse senza forse le frate mi torno fuori come la balcuna, fuori sopra la balcuna i 60 buoni, secondo me settimana prossima, che avrò sempre il stesso esercizio ma a 6 secondo me raggiungo anche un 65, guarda, secondo me lo raggiungo, perché poi nel military non ho tanta esperienza in realtà d'allenamento cioè l'ho allenato relativamente poco, sono tutti esercizi relativamente freschi per me, ok? perché le sto allenando solamente in questo periodo queste cose, che penso porterò avanti comunque perché sento che sto migliorando bene, sento che mi piaccia, non riesco a mantenere tutte le cose che facevo prima e come sempre adesso non riesco ad allenare i dip, quindi sono funzionali e complementari, diciamo, di contorno poi io voglio raggiungere piegamenti in verticale, mi piace, voglio aumentare di livello anche su quelli e il military mi è d'aiuto, adesso faccio back off 3x6 al 90%, quindi con 55 kg sto facendo sto cazzo di video, vai! 2x15 di pull-up con 12,5 kg vediamo se è c'è allora la prima serie è andata molto bene, molto bene in realtà cioè me l'aspettavo molto più faticata, molto più da dover fare i fermi, gli stop invece è andata molto fluida, vediamo la seconda adesso, ok? 2x15 di pull-up con 12,5 kg ok ragazzi, finito tutto il mio allenamento passo a quello di pulliero, ok? abbiamo fatto le prime serie, adesso mi carico sopra il bimbo è arrivato il padrone, il padrone che non scherza oggi non si scherza, non si scherza, mai, non si scherza, mai, non si scherza allora, bell'allenamento, è andato bene domani non mi ricordo cosa devo fare, però di sicuro qualcosa di molto interessante mi ricordo la risulta che non si scherza, mai, non si scherza, mai, non si scherza ma mi retta, è il piatto ma non mi sta indietro, ti ha superato le braccia ti molte e ti scherza alla fronte lui mi all'esp selta e mi scerza lui è Mister Club Reset